Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini, in FIPL per lavori di miglioramento della sicurezza a 2 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montruco Fiorentino e la Strassigna verso Firenze, è chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, sempre in FIPL, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna e in uscita a San Miniato entrambe provenendo da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze, in A11 2 km di coda tra Firenze Nord e Peretola in direzione Firenze, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!